oggi la lawine si trova in un allevamento di storioni e beluga per parlarvi di caviale in questo allevamento gli storioni e beluga vengono allevati nelle acque del fiume mincio ma dopo aver parlato dei pesci aver visto come vengono trattati qui molto bene andiamo a parlare del caviale allora c'è una stringa che deve indicare il caviale se è di allevamento si è a un senso selvaggio selvaggio non c'è di più se è di paese di provenienza deve indicare lo stabilimento autorizzato indicare il lotto di produzione e l'anno di costruzione se lei vuole esaltare al massimo i sapori del caviale la cosa migliore è la mano perché la mano scalda scalda il caviale e il scaldare quel caviale lì vuol dire esaltare al massimo sia i sapori buoni sia i sapori cattivi sentirete un caviale molto cremoso proprio la caratteristica del beluga è la cremosità e rimane in bocca proprio sentite appena lo mettete in bocca non ha consistenza sentite una crema in bocca alla prossima Grazie a tutti